di aver quasi fatto quello che ha fatto lui, speriamo di superarlo. Bella gara nel doppio, i carabinieri Cattaneo e Oppo si portano a casa il titolo dopo aver partito per tutta la gara, ma è grande esperienza, grande preparazione. E' stata una bellissima gara soprattutto perché hanno rimontato, sono riusciti poi a andare dalla parte di mezzo della gara, insomma i mille metri hanno cominciato questa loro spinta dopo questa partenza davvero bruciante da parte di Luca Piumento e Simone Martini della società Canottiri Padova, probabilmente volevano sorprenderti però. 1.60 è l'attempo, poi Martini Piumento della società Canottiri Padova con 6.23.90, Gianri Calabrese, terzo posto, medaglia di bronzo della circola Canottiri Roma con la 6.32.30.